Si tratta dell'onoreficenza Poggio Braccioleni che abbiamo istituito nel corso di quest'anno per l'appunto destinata alle persone che si sono contraddistinte nei vari settori, dal lavoro alla solidarietà, al sociale, allo sport, alla cultura. Si tratta di Fabrizio Bernini, Lara Mori, Giulia Capocci, Enrico Tigli e Carlo Fabri, ciascuno nel proprio settore di competenza per l'appunto ha contraddistinto sia quest'anno ma anche gli anni trascorsi con risultati particolarmente importanti che hanno valorizzato sia Terra Nuova sia l'intero Valdano, quindi ci sembrava giusto per l'appunto esprimere gratitudine proprio consegnandogli il Poggio Braccioleni, tra l'altro è un momento aperto a tutta la cittadinanza, quindi invitiamo chiunque volesse partecipare venerdì 22 dicembre alle ore 17.30 in sala consigliare, tra l'altro la consegna sarà accompagnata da filmati che raccontano un po' per l'appunto l'opera delle persone che sono insegnite il riconoscimento.